Grazie Ministro della Salute e Speranza per aver accolto il nostro invito. Lo ringrazio anche per l'educazione e la disponibilità perché quando abbiamo inviato la convocazione, la comunicazione, mi ha telefonato. Grazie Ministro. Abbiamo convocato per fare il punto per un'audizione rispetto alle competenze di questa bicamerale che ha controllo e vigilanza in materia di immigrazione, controllo e vigilanza sull'attuazione del trattato di Schengen in relazione alla problematica, all'emergenza che riguarda il coronavirus. Quindi tutte le misure che sono state messe in campo dal punto di vista che riguardano il suo ministero, dal punto di vista sanitario, riguardo a questa emergenza. Con un focus sulla situazione dei nostri aeroporti, dei controlli che si stanno attuando. Personalmente io aggiungo e rimarco anche, è una valutazione rispetto ai confini terrestri. Questo è il comitato bicamerale Schengen. E personalmente ritengo opportuno che dei controlli a livello sanitario debbano essere fatti anche sui confini terrestri del nostro Paese nell'ottica di una maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario per tutti i cittadini. Aggiungo anche una richiesta di notizie e un abbraccio che arriva a questa bicamerale ai nostri concittadini in Cina e ai nostri concittadini che sono stati rimpatriati che sono alla Cecchignola con una richiesta di informazioni e di notizie sul loro stato di salute. Le do la parola e la ringrazio per il suo intervento. Grazie Ministro. Bene, ringrazio io e lei Presidente per l'occasione di confronto con il Parlamento che ritengo essere sempre cosa positiva e utile da parte del Governo. Chiaramente questa è l'occasione anche per illustrare gli aspetti relativi alle misure di sicurezza allo Stato adottate per prevenire la diffusione del coronavirus e il loro possibile impatto sul controllo delle frontiere esterne e sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen. Come noto con l'accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei Paesi firmatari e di altri Paesi dell'Unione Europea e di alcuni Paesi terzi. La Convenzione di Schengen ha poi completato l'accordo e ha definito le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. L'accordo e la Convenzione, nonché gli accordi e le regole connesse, sono stati integrati nel quadro dell'Unione Europea e sono diventati legislazione dell'UE assicurando la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea. Tutto questo è parte fondante del titolo quinto del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione. Uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la rotta contro quest'ultima. Come è noto, il Codice Schengen, nel prevedere l'assenza di controllo alla frontiera sulle persone che attraversano i confini nazionali tra gli Stati membri dell'Unione e nello stabilire altresì le norme applicabili al controllo, autorizza in circostanze eccezionali gli Stati membri a ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne allo spazio di Schengen. Accanto all'ipotesi della grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, articoli 25, 26, 27 e 28, e al caso di eventi prevedibili, ad esempio importanti eventi sportivi, convegni o riunioni politiche di alto livello, la sospensione della libera circolazione è ammessa in caso di minaccia per la salute pubblica. Il ripristino dei controlli alle frontiere interne deve tuttavia rappresentare un'eccezione e in ogni caso può essere disposto nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò significa che la sospensione della libera circolazione deve essere limitata nel tempo e corrispondere ad una misura indispensabile per tutelare la salute pubblica. A tal proposito va evidenziato che in data 4 febbraio 2020 il direttore del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ECDC, in sede di audizione presso la Commissione Ambiente dell'Europarlamento, ha affermato che la decisione di sospendere gli accordi di Schengen a causa dell'epidemia di coronavirus allo stato attuale non è giustificata dal punto di vista scientifico. Ha aggiunto che l'impatto potenziale dell'epidemia è alto ed esiste una probabilità da moderata elevata di ulteriori importazioni di casi nei paesi dell'Unione, mentre la probabilità di un contagio diffuso da uomo a uomo in Europa è bassa. Sulla scorta di queste indicazioni allo Stato non vi sono elementi tali da poter giustificare una limitazione della libertà di circolazione delle persone all'interno dell'area Schengen. In relazione a questa valutazione mi preme sottolineare anche in questa audizione che le decisioni adottate dal Governo italiano derivano sempre ed esclusivamente da valutazioni di carattere scientifico. È la comunità scientifica a definire il livello di rischio sanitario, non altri. A noi, al Governo nazionale, spetta in una chiara distinzione di ruoli e funzioni il compito di garantire con i nostri provvedimenti un livello di prevenzione e controllo efficace proporzionale allo stato di allerta indicato dai nostri scienziati e dalle autorità sanitarie. Situazione epidemiologica. Il 31 dicembre del 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come nuovo coronavirus nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica Popolare Cinese. L'epidemia si è rapidamente evoluta colpendo altre parti della Cina e al di fuori del paese. Sono stati rilevati casi in diversi paesi in Asia, ma anche in Australia, Europa e Nord America. I primi casi nell'Unione Europea sono stati confermati in Francia. Gli ultimi dati segnalati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità al 10 febbraio, questo è l'ultimo rapporto a disposizione, sono in totale 40.554, di cui 40.325 dalla Cina in 25 paesi diversi. I decessi sono stati 910, di cui 909 in Cina. Hubei è la provincia più colpita, avendo riportato oltre il 70% dei casi notificati. Risultano tuttavia affette altre 33 province e territori cinesi. In Asia sono stati segnalati casi da Giappone, Repubblica di Corea, Vietnam, Singapore, Malesia, Cambogia, Filippine, Thailandia, Nepal, India, Sri Lanka, generalmente importati dalla Cina o collegati a un caso cinese. Nelle Americhe, sia negli Stati Uniti che in Canada, sono stati segnalati casi. Alcuni sono stati segnalati anche in Australia e negli Emirati Arabi Uniti. In Europa, alla stessa data del 10 febbraio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, secondo l'ultimo rapporto a cui ho fatto riferimento, ci sarebbero 39 casi, ci sono 39 casi totali. 14 casi in Germania, 11 in Francia, 4 nel Regno Unito, 3 in Italia, 1 caso in Belgio, 1 caso in Finlandia, 2 in Spagna e 1 ancora in Svezia. Questa mattina l'ECDC ha fornito dei dati aggiornati che provengono da comunicazioni fatte dall'autorità cinesi. 43.118 sono i casi confermati di nuovo coronavirus nel mondo, con 1.018 decessi e 41 contagi confermati in Europa. Al momento ci sono 3 casi confermati in Italia. Due cittadini di nazionalità cinese, ora in prognosi riservata, ricoverati dal 29 gennaio, è un cittadino di nazionalità italiana, attualmente in buono stato di salute, che faceva parte del gruppo dei 56 rientrati con il volo dell'Aeronautica Militare dalla città di Wuhan, ma su questo tornerò. Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea e del Regno Unito, attualmente estimata come bassa. In Italia il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni, ha in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale. Azioni di prevenzione in Italia, porti e aeroporti. Il Governo ha affrontato l'emergenza coronavirus muovendosi su un doppio livello di azione. Massimo livello di prevenzione per la circolazione di persone all'interno dell'area Schengen. Provvedimenti via via più incisivi per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, con particolare riferimento agli arrivi diretti dalle aree in cui il virus si è diffuso e segnatamente dalla Cina. L'azione del nostro Governo è ispirata al principio di massima precauzione. Vanno letti in questa chiave i provvedimenti adottati per aeroporti e per porti. Abbiamo pianificato ed implementato accurate misure di controllo, quali ad esempio la misurazione della temperatura corporea in tutti gli aeroporti italiani, l'identificazione e l'isolamento dei malati, le procedure per il rintraccio e la quarantena dei contatti stretti che unitamente ad un efficiente sistema di sorveglianza epidemiologico e microbiologico possano garantire il rapido contenimento di eventuali casi. Nel ringraziare le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e della protezione civile che rendono ogni giorno possibili controlli senza precedenti in tutti gli aeroporti italiani, informo la Commissione che ad oggi sono stati effettuati controlli a passeggeri con un enorme sforzo organizzativo, reso possibile dall'impegno di personale aggiuntivo costituito sia da volontari della protezione civile, operativi 24 ore al giorno, che collaboratori contrattualizzati dal Ministero della Salute. Ciò ha consentito il controllo di oltre 5.000 voli per 620.000 passeggeri dal 5 al 10 di febbraio. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, è stata attivata ed è in fase di progressiva implementazione una procedura di controllo presso tutti i porti italiani. È stato previsto l'obbligo di richiesta da parte di tutte le navi della libera pratica sagritaria. Secondo tale procedura, una nave prima di entrare in porto comunica a Slusmaf la situazione sanitaria di bordo e richiede una specifica autorizzazione allo sbarco di passeggeri, dell'equipaggio e a tutte le operazioni commerciali. Tale procedimento di regola, previsto solo per le prevenienze extra Unione Europea, è stato esteso a tutte e può comportare anche l'ispezione e la visita medica a bordo in tutti i casi sospetti. Inoltre per le navi in arrivo in porti nazionali, dopo una navigazione di durata inferiore alle 6 ore, è previsto l'obbligo di comunicazione via radio della situazione sanitaria di bordo, contestualmente all'annuncio del loro arrivo e comunicazione del carico trasportato. Voglio in questa sede sottolineare, prima di riepilogare più nel dettaglio, le circolali e le ordinanze adottate dal Governo italiano, che si tratta di misure rigorose per prevenire e controllare ogni possibile rischio sanitario nel nostro Paese. Vengono infatti effettuati controlli di carattere sanitario anche a tutti i passeggeri provenienti da aeroporti dell'Unione Europea e anche una nave proveniente da un porto dell'Unione Europea è sempre sottoposta ad una preventiva autorizzazione di carattere sanitario prima di attraccare nel nostro Paese. Circolari e ordinanze. La mia informazione sui provvedimenti da noi adottati non può che partire dalla riunione del Comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, convocato nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2020 dal Direttore Generale dell'OMS ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale. Vorrei sottolineare che nella stessa data di convocazione del Comitato di Emergenza dell'OMS il 22 gennaio del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute è stata istituita e si è contestualmente riunita la Task Force Coronavirus, composta da rappresentanti del Ministero, dai carabinieri NAS, dai rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, dall'Agenas, dall'Agenzia del Farmaco, dall'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dalla Protezione Civile, da un rappresentante delle Regioni, dagli ordini dei medici e degli infermieri, dalle società aeroportuali SEA e ADR, dallo Stato Maggiore della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare. Detta Task Force è permanentemente operativa e si riunisce quotidianamente. Essa ha il compito di seguire in tempo reale l'evolversi della situazione determinata dal coronavirus, supportando il Ministro, nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare le eventuali criticità emerse. La Task Force sta verificando lo stato di approntamento di misure idonee a fronteggiare ogni ipotesi di evoluzione della situazione epidemiologica, quanto a risorse umane, testi laboratorio, presidi sanitari, comunicazioni e relative procedure. Nello stesso giorno di istituzione della Task Force, in data 22 gennaio 2020, è stata adottata la circolare polmonite da nuovo coronavirus in Cina. Tale circolare ha permesso di attivare immediatamente una sorveglianza mirata a livello nazionale, individuando l'Istituto Superiore di Sanità come laboratorio nazionale di riferimento. Conseguentemente a questa circolare, la Federazione Nazionale Ordini Medici, Chirurgi e Odontoriatri, FNOMCEO, e la Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, FNOPI, hanno provveduto a diramare a tutti gli ordini provinciali la stessa circolare ministeriale. Lo Stato Maggiore della Difesa ha diramato la stessa ai propri servizi sanitari, per informare adeguatamente le Forze Armate Nazionali. Il Centro Sangue, il Centro Nazionale Sangue e il Centro Nazionale Trapianti hanno diramato circolari in cui forniscono istruzioni sulle misure di prevenzione della trasmissione del nuovo coronavirus, mediante trasfusione di emocomponenti labili e di trapianti. Nei giorni successivi al Comitato di Emergenza dell'OMS, che ricordo non ha il 23 gennaio deliberato la proclamazione dello Stato di Emergenza, noi abbiamo comunque emanato il 24 gennaio la circolare del Ministero della Salute, indicazioni operative per il monitoraggio dello Stato di Salute dei passeggeri su voli con provenienza dalla Cina. Il 25 gennaio l'ordinanza su misure profilattiche contro il nuovo coronavirus. Il 27 gennaio il provvedimento del Ministero della Salute su epidemia cinese da coronavirus, misure urgenti a tutela della salute pubblica, recante tra l'altro il divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina, Roma-Urbe, Perugia, Ancona e il dirottamento di tutti questi voli presso l'aeroporto di Fiumicino. Il 27 gennaio 2020 è stata inviata alle Regioni una nota circolare con un aggiornamento relativo alla definizione di caso per la segnalazione alla diagnostica di laboratorio. Ricordo inoltre che in data 25 gennaio si è tenuta una riunione con tutti i rappresentanti delle Regioni volta al miglior coordinamento interistituzionale e il successivo 28 gennaio, tre giorni dopo, ho partecipato personalmente alla riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome sulla gestione delle attività di prevenzione del coronavirus, ritenendo fondamentale, come effettivamente è d'intesa con gli assessori competenti, assicurare il massimo livello di coordinamento tra le istituzioni. Il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riunito nuovamente il suo organismo fondamentale, quindi le cose fatte finora sono avvenute nonostante la non proclamazione da parte dell'OMS e dello Stato d'emergenza. Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da nuovo coronavirus un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Conseguentemente è stata adottata immediatamente l'ordinanza 30 gennaio 2020 su misure profilattiche contro il nuovo coronavirus, con la quale, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, è stato interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendende aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo coronavirus. Il giorno dopo, il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato d'emergenza per la durata di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da coronavirus. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è stato affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Mi sia consentito, anche in questa sede, di esprimere gratitudine al Commissario Borrelli per il lavoro straordinario svolto sino ad ora. Le principali azioni coordinate dal Capo di Dipartimento sono volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della Salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio. Il 31 gennaio del 2020 è stata diramata la circolare su potenziali casi di coronavirus e relativa gestione. Il 1 febbraio del 2020 è stata diramata quella su indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno in partenza verso aree affette della Cina, poi è aggiornata l'8 febbraio. E' seguita inoltre l'adozione delle seguenti circolari. Il 3 febbraio quella su indicazioni per gli operatori dei servizi e esercizi a contatto con il pubblico. Il 3 febbraio la protezione civile ha adottato l'ordinanza numero 630 che ha istituito il Comitato Tecnico Scientifico e disciplinato i primi interventi urgenti relativi al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Nella medesima data la task force attiva presso il Ministero della Salute ha preso la decisione insieme alla protezione civile di rafforzare sensibilmente e ulteriormente i controlli del personale medico e sanitario in tutti gli aeroporti e porti del nostro Paese. Il 4 febbraio del 2020 è stata diramata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, su interventi urgenti in relazione all'emergenza relativa al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di coronavirus. Altre azioni messe in atto. Una corretta informazione ai cittadini rappresenta un capitolo fondamentale delle nostre politiche di prevenzione. Vengono pubblicati regolarmente sul portale del Ministero della Salute gli aggiornamenti inerenti all'evento. Sono state predisposte, pubblicate e vengono aggiornate regolarmente le domande e le risposte più frequenti relative all'evento epidemico. Già il 10 gennaio, prima di conoscere l'agente ziologico dell'infezione, è stato predisposto del materiale informativo, anche in lingua cinese, che è stato affisso negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali. Il materiale è naturalmente in costante aggiornamento. È stata effettuata una ricognizione delle scorte di dispositivi di protezione individuale nei vari punti d'entrata ed è in corso una ricognizione della disponibilità generale del Paese di questi dispositivi. È stato rafforzato il personale operativo per il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 15.00, attivo 24 ore su 24. Esso opera sia da punto centralizzato di raccolta delle segnalazioni di casi sospetti da parte dei cittadini per il successivo smistamento, ove necessario, alle strutture sanitarie delle regioni, che per fornire informazioni alla popolazione sul virus e sulle misure di prevenzione da adottare. A tal fine sono state assunte iniziative per il potenziamento del servizio con ulteriore personale che è stato sottoposto preliminarmente a un programma di formazione. Risulta molto importante la presenza tra gli addetti alla risposta dei mediatori linguistici che hanno supportato gli operatori nella gestione di diverse telefonate in lingua cinese, contribuendo ad eliminare la possibilità di fraintendimenti e migliorando la conoscenza dei casi e della esposizione del rischio del contagio. È stato stipulato, mi pare un fatto significativo, un accordo con Twitter e poi con Facebook, che indirizzeranno ogni ricerca e hashtag al Ministero della Salute. In base agli obblighi internazionali, la Direzione Generale della Prevenzione informa costantemente delle misure adottate a livello nazionale la Commissione europea e i Paesi aderenti alla Global Health Security Initiative e partecipa alle teleconferenze organizzate per armonizzare la risposta a livello internazionale. Sono costanti, chiaramente, i contatti con l'Ambasciata d'Italia a Pechino, con l'Unità di Crisi del Maici, con la Commissione europea, io ho più volte personalmente sentito la commissaria Stella Chiriachidis, con l'European Center for Disease Control, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, partecipando in tutte le occasioni a teleconferenze o incontri organizzati da tali organismi. Credo risulti evidente che il principio di massima precauzione richiamato all'inizio della mia relazione sia stato applicato con scrupolo e tempestività. L'Italia è tra i Paesi europei e del mondo che hanno adottato il più alto livello di precauzione. Una speciale menzione merita anche il ruolo del Ministero della Salute nell'assistenza dei nostri connazionali all'estero, con particolare riferimento a quelli presenti in Cina al momento in cui le autorità cinesi hanno notificato all'OMS la presenza del nuovo virus. Il Ministero della Salute ha coordinato, insieme al Ministero della Difesa e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il rimpatrio dei cittadini italiani dalla città di Wuhan in Cina ed ha definito protocolli operativi specifici per ogni rimpatrio. Il primo rimpatrio è avvenuto il 2 febbraio con volo dell'aeronautica militare e ha interessato 56 persone, compresi i nuclei familiari con bambini e persone singole. Questo gruppo è stato ospitato nella struttura dedicata della città militare della Cecchignola. Il secondo rimpatrio è avvenuto il 9 febbraio con volo organizzato dal governo inglese ed ha portato in patria otto persone prese in carico dalla missione italiana nella base militare inglese di Bryce Norton e all'arrivo trasportate presto l'ospedale militare del Celio. Un terzo rimpatrio riguarderà un cittadino italiano impossibilitato a partire da Wuhan per condizioni cliniche non favorevoli. Ogni evacuazione è stata supervisionata da un coordinatore delle attività sanitarie che si è recato in loco e ha accompagnato le persone evacuate a destinazione. I protocolli sanitari applicati, emanati dal Comune di Comune Accordo tra il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e il Ministero della Difesa, prevedono quanto segue. Controllo dello stato sanitario delle persone da evacuare prima della partenza, con misurazione tra l'altro della temperatura corporea e valutazione clinica complessiva. Ripetizione del controllo all'atterraggio prima del trasferimento a destinazione con mezzo di trasporto militari dedicati, assegnazione e registrazione dei posti a sedere sulla mappa dell'automezzo e dotazione delle persone con mascherine. Le persone evacuate sono ora assegnate ai propri alloggi e sono state istruite sulle precauzioni da applicare per prevenire la trasmissione. L'eventuale insorgenza di sintomi deve essere prontamente segnalata e viene contattata immediatamente allo Spallanzani per concordare le modalità di gestione clinica e di trasferimento presso la struttura ospedaliera, anche in questo caso con mezzi di trasporto dedicati. Ad oggi è stato confermato dal laboratorio un solo caso di coronavirus tra le persone che abbiamo evacuato. Si tratta di un cittadino italiano di sesso maschile che il 6 febbraio è stato trasferito allo Spallanzani dalla struttura dedicata della città militare della Cecchignola. Il soggetto è risultato positivo al test di screening per nuovo coronavirus effettuato dal laboratorio militare. Successivamente il risultato è stato confermato dal laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani e poi dall'Istituto Superiore di Sanità, come previsto dalle attuali procedure. Il paziente in buone condizioni generali ha presentato in questi giorni lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente ha iniziato una terapia antivirale. Nei giorni scorsi a scopo meramente precauzionale sono stati trasferiti all'Istituto Spallanzani anche una donna e due bambini accompagnati da un genitore sempre appartenenti al gruppo della città della Cecchignola, il gruppo dei 56 rimpatriati. Tutti questi sono risultati negativi al test. Per quanto attiene alle misure intraprese da altri Paesi, il report dell'OMS alla data dell'8 febbraio 2020 riferisce che sono state riportate ufficialmente all'Organizzazione Mondiale della Sanità misure di restrizione ai viaggi da parte di 23 Stati membri, che salgono a 72, includendo gli Stati per i quali sono disponibili informazioni raccolti tramite canali ufficiosi, report, dichiarazioni, media. In data 3 febbraio 2020 ho partecipato al vertice in teleconferenza dei Ministri della Salute dei Paesi del G7 sul coronavirus, illustrando ai colleghi del G7 le misure intraprese dall'Italia e i controlli sanitari in porti e aeroporti. Ho ribadito la necessità di un impegno comune a sostenere il governo cinese nei suoi sforzi per affrontare l'emergenza. Ho anche sottolineato l'esigenza di collaborare e condividere tutte le informazioni scientifiche utili a contrastare il virus. Al vertice erano presenti in collegamento i Ministri della Salute del Canada, della Francia, della Germania, del Giappone, del Regno Unito e degli Stati Uniti. La riunione è stata aggiornata domani, mercoledì 12 febbraio. Il 13 febbraio giovedì i Ministri della Salute dell'Unione Europea, su mia richiesta, su richiesta dell'Italia, si riuniranno sotto la Presidenza croata in via straordinaria a Bruxelles per fare il punto sulla diffusione del coronavirus. In quella sede ribadirò la posizione di tutto il governo italiano. Serve un coordinamento più forte dei Paesi dell'Unione. Di fronte ad un rischio globale per la salute dei nostri cittadini, l'Europa è chiamata a lavorare insieme. In conclusione, ribadisco che l'evoluzione della diffusione del coronavirus va seguita con la massima attenzione. Sono sbagliati allarmismi, oggi del tutto infondati, ma le istituzioni devono fare ogni sforzo per porre la priorità della difesa del diritto alla salute come garantito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Grazie. Grazie, grazie Ministro. Apriamo gli interventi dei colleghi e le domande. La parola d'ordine ovviamente, no allarmismi, massima attenzione e massima prevenzione. Prima di dare le parole ai colleghi, rispetto alla sua relazione, anche io delle domande e degli spunti di approfondimento. Qui in questa bicamerale abbiamo controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Abbiamo ascoltato una relazione che riguarda le misure messe in campo sui porti, le misure messe in campo sugli aeroporti dove dal 5 febbraio viene misurata la temperatura, insomma vengono adottate le misure dal protocollo e da disposizioni per i passeggeri, come ho detto, in tutti gli aeroporti italiani che oggi sono atterrato a Roma e sono stato controllato con il termoscanner, si dice Ministro, giusto? Ok. Entri scanner, quindi non ho la febbre, sto bene. bene. Le stazioni, io ho una domanda che le faccio, qua facciamo controllo e vigilanza in materia di immigrazione e le stazioni, le nostre stazioni italiane, in particolare le grandi stazioni, sono un crocivia di arrivi ovviamente di partenza e un punto importante per quanto riguarda l'immigrazione nel nostro Paese e le migrazioni, penso alla stazione centrale, penso alla stazione Termini e le chiedo, Ministro, se il suo Ministero, il Governo non ritiene utile e necessario, io personalmente lo ritengo, che vengano effettuati dei controlli sanitari anche nelle nostre stazioni. Io torno, Ministro, sul tema, sul punto che riguarda i controlli sanitari ai confini terrestri e giustamente un governo dice io mi baso per prendere una decisione di effettuare dei controlli e quindi di sospendere il trattato di Scheng mi baso su relazioni scientifiche, su un supporto scientifico rispetto a determinate scelte politiche che poi devono essere prese. E viene citato nella sua relazione il parere del direttore del Centro Europeo di Controllo per la diffusione di malattie, un parere datato il 4 febbraio. La mia domanda, Ministro, è questa. Ci sono a supporto di questa decisione di non effettuare controlli che io personalmente, mi sento assolutamente di dirlo, li ritengo opportuni e utili. I controlli anche sui confini terrestri a tutela della salute di tutti, di italiani e non italiani e di tutti i cittadini anche europei. E non solo, vorrei chiedere, sulla base di questa decisione, il Governo dice, non si ritiene opportuno e utile sospendere Schengen. Vi siete basati solo sul parere del Centro Europeo di Controllo per la diffusione di malattie e sono stati sentiti anche altri organi, quali i nostri studiosi, anche i nostri medici italiani o altri aspetti del settore. Un'altra domanda che è una considerazione magari anche un po' più rispetto ai dati che provengono dalla Cina, come sappiamo, la Cina è un regime ed è notizia di cronaca anche di questi giorni che delle persone che esercitavano attività giornalistica, insomma, sono spariti. Quindi sono sparite, leggevo anche proprio questo fine settimana, di due ragazzi che facevano un'attività anche giornalistica di relazione rispetto al fenomeno del coronavirus, non si trovano più. Uno è stato, leggevo, ritrovato perché è arrestato e un altro, non ho letto gli aggiornamenti, spero che gli amici familiari e la comunità cinese internazionale lo possono aver ritrovato. Questi dati che arrivano dalla Cina vengono reputati insomma attendibili, richiamando anche il fatto che, perché poi la vita è fatta anche di passione e anche di cuore, credo, e io pianto veramente in modo sincero la morte del medico che aveva, cinese, che aveva lanciato l'allarme. Sono andato a leggermi varie rassegne stampa e articoli dove ho letto addirittura che questo medico era stato arrestato dal governo come permettere a tacere quello che stava succedendo. Quindi quello che mi sento, anche nel ruolo di rappresentanza che ho e che rivolgo magari al governo dal fronte del Parlamento è di avere, insomma, sempre una massima attenzione anche rispetto a questi aspetti che hanno dei contorni, insomma, anche nell'ambito di un'emergenza che riguarda una malattia hanno dei contorni che entrano nel campo dei diritti umani che sono molto discutibili. Ci sono interventi, colleghi? Senatore Zuliani, prego. Grazie Presidente, grazie Ministro. Intanto ha giovato sicuramente i membri di questo comitato bicamerale la delucidazione che lei ha fatto qui, anche circa l'evoluzione dei fatti che sono accaduti recentemente. Un mio dubbio che ho e che pongo a lei il seguente. Ha citato casi di cittadini francesi, tedeschi e di altri stati che hanno contratto il virus e comunque quando parliamo di queste situazioni a livello sanitario parliamo di individui tracciabili quindi persone che sappiamo dove sono nate, dove hanno avuto residenza, che viaggi hanno fatto. In alcuni casi invece, parlo dell'immigrazione su alcuni punti di confine dell'Europa e quindi anche dell'Italia, arrivano individui, persone che come sappiamo già accade da qualche anno arrivano senza documenti, non sono qualificabili, non sappiamo nulla di loro, rilasciano dichiarazioni ma non abbiamo alcuna certezza. È vero che il virus è sul continente asiatico e sulla Cina però nulla garantisce che anche da altri paesi ci siano stati contatti di individui con popolazioni asiatiche, magari cinesi che vanno sul continente africano e mi chiedo come noi possiamo avere la certezza di questi individui che arrivano con le barche sui controlli che vengono fatti negli hot spot se i tempi di incubazione della malattia danno la possibilità di scoprire secondo le tempistiche adeguate eventuali contrazioni del virus e con la paura che poi queste persone da questi hot spot fuggano girando sul nostro paese eco. Volevo rassicurazioni in merito, non sicuramente per creare allarmismi ma per valutazioni che sicuramente questo comitato dovrà fare. Grazie. Grazie senatore Zuliani, abbiamo iscritti l'onorevole Galizia e il senatore Ruspandini. Prego onorevole De Luca, scusa. C'era De Luca prima? Era sfuggito. Onorevole De Luca, prego. Non si preoccupi. Grazie a nome di tutti i componenti, a nome di tutti quanti noi per le delucitazioni chiare e precise che il Ministro Speranza ci ha fornito. Io credo che sia corretto e noi riteniamo assolutamente giusta la strada che sta perseguita di ispirare ogni azione complessiva da parte del nostro Governo, da parte della nostra macchina amministrativa, al principio della massima precauzione. Quindi da questo punto di vista siamo assolutamente in linea con lei, Ministro, e condividiamo in pieno anche la linea guida, ossia seguire le indicazioni derivanti a valutazioni scientifiche nel mettere in campo tutte le misure utili e necessarie a salvaguardare la salute dei nostri cittadini. Quindi da questo punto di vista noi come Partito Democratico, ma credo sia un'opinione condivisa e diffusa nel nostro Paese, siamo assolutamente su questa linea e con lei. Mi sento di approfittare di questa occasione per ribadire la nostra vicinanza e i complimenti alla nostra struttura complessiva, della macchina del Ministero e della Salute, ma di tutte le strutture coinvolte anche dalla task force che lei ha prontamente istituito e che stanno consentendo davvero di tenere alta l'attenzione, evitando però allarmismi, isterismi che potrebbero anche talvolta verificarsi, evitando episodi anche di intolleranza che nei primi minuti della diffusione di questa epidemia abbiamo purtroppo riscontrato nel nostro Paese che ci sentiamo di deprecare, di stigmatizzare con grande nettezza e il lavoro di serietà e rassicurazione che il nostro Governo sta portando avanti e lei in prima persona ha dato sicurezza e serenità, sicuramente tenendo alta l'attenzione al nostro Paese. Che cosa possiamo fare di più? Questa è una domanda e che cosa nel caso si dovrebbe fare di più? Lei si è fatto promotore di un incontro che ha ricordato il prossimo 13 febbraio con il Ministro della Salute a livello europeo. Si può andare avanti sul coordinamento europeo? Ci sono delle misure ulteriori che potrebbero essere prese? Lei promuoverà qualche misura rafforzata a riguardo. Sono stati stipulati già degli accordi ad hoc per esempio legati ai viaggi, ai contatti indiretti, cosiddetti contatti diretti, cioè i cosiddetti viaggiatori intracomunitari che però arrivano dalle zone a rischio perché sappiamo bene che la misura di cui lei ha parlato, ispirata al principio di cautela, di precauzione e di prevenzione della chiusura dei voli, dell'interruzione dei voli dalla Cina non è stata adottata in pieno da tanti altri stati. Ci sono varie compagnie, leggevamo la British Airways, Lufthansa, Swiss Air France che hanno limitato o interrotto alcune tratte ma i governi non hanno bloccato nel loro complesso i voli così come noi invece per alzare il livello massimo dell'attenzione abbiamo fatto. È possibile quindi che un viaggiatore che venga da una zona a rischio della Cina possa giungere in Italia via Francoforte o via Monaco o via comunque attraverso altre capitali europee, altri stati europei. Si sta facendo qualcosa per attivare una rete di vigilanza intraeuropea su questi temi e poi arrivo a concludere ispirandoci al principio di proporzionalità che lei ha citato legato appunto alle misure già adottate al nostro interno. Se può chiarirci, io credo sia così ma immagino sia opportuno che ci dia lei delle indicazioni, c'è un monitoraggio costante sulla necessità di tenere in vita e ancora attiva alcune misure quale quella appunto della chiusura degli aeroporti o della non chiusura degli spazi Schengen. C'è l'ipotesi, potrebbe verificarsi l'ipotesi, monitorate comunque costantemente la situazione di una chiusura straordinaria, addirittura dell'adozione a sospensione straordinaria di accordi Schengen legati a eventuali esplosioni ulteriori, speriamo di no, di quella che diventerebbe una vera e propria pandemia. Quindi da questo punto di vista semplicemente qualche delucidazione in più nella piena consapevolezza da parte nostra che si sta facendo un lavoro straordinario, importante e che porta il nostro Paese a essere al primo posto al mondo per le misure di sicurezza adottate finora. Grazie. Grazie, grazie onorevole De Luca, onorevole Galizia, prego. Grazie Presidente, anche io ci tenevo a ringraziare il Ministro per l'importante contributo che ha portato qui oggi, soprattutto perché è stato molto dettagliato, molto preciso e attento e si vede quanto il Ministro si sia impegnato per poter affrontare questa situazione nei migliori dei modi e soprattutto in maniera preventiva, perché questo è l'aspetto più importante, la precauzione quando ci sono questi tipi di fenomeni e di problematiche. Io ci tenevo a ringraziare anche tutti gli uomini e le donne del Servizio Sanitario Nazionale che stanno facendo un eccellente lavoro, anche la protezione civile e inoltre volevo anche ringraziare il Commissario Borrelli perché secondo me si sta facendo un ottimo lavoro. Anch'io volevo evidenziare come il collega De Luca la questione dei voli intermedi, ecco questo è un aspetto che insomma non dovremmo trascurare perché magari possiamo, dati i tempi di incubazione, poter perdere il controllo di alcuni casi che come l'OMS stesso ha dichiarato potrebbero essere solo la punta di un iceberg, ovviamente senza alarmismi, sempre mantenendo alta però l'attenzione e soprattutto perché gli ultimi casi di contagio sono avvenute tra persone che comunque non provenivano direttamente dalla Cina e questo insomma ci fa un attimo riflettere. Le volevo chiedere inoltre se erano previsti dei protocolli particolari per i personale naviganti come gli assistenti di volo e gli steward che lavorano nel settore della navigazione e inoltre le volevo chiedere se dobbiamo temere qualcosa dall'Africa, nel senso che come hanno sollevato i colleghi della Lega si ha timore insomma che gli immigrati provenienti dagli sbarchi possano essere portatori del virus. Onestamente in base a quello che ho avuto la possibilità di leggere ho notato che effettivamente ci sono dei forti scambi tra l'Africa e la Cina, noi sappiamo tutti che la Cina è un grande investitore nell'Africa però prevalentemente nell'Africa orientale, centrale e meridionale, infatti c'è una grande presenza cinese in questi territori e più di un milione di cinesi sono presenti in Africa, tuttavia molti studiosi affermano che l'aspetto del caldo è un grande freno per la diffusione dell'epidemia. Quindi le volevo chiedere se insomma c'era qualcosa a riguardo e se i timori dei miei colleghi della Lega erano fondati oppure no. Grazie. Grazie Senatore Rusbandini, prego. Sì, grazie Signor Ministro, grazie Presidente. Le domande dei colleghi sono anche le mie domande per cui ascolterò la risposta relativa all'Africa. Se ci fosse l'esplosione di un focolaio in territori dove probabilmente, anzi sicuramente le condizioni igienico-sanitarie non sono in qualche modo in linea con i parametri occidentali, quelli che noi conosciamo, è chiaro che le criticità sarebbero probabilmente superiori. Oltre a questo capisco che il suo compito è particolarmente gravoso per le criticità stesse della nostra contemporaneità. Avere a che fare con un mondo che produce fake news a livello quotidiano non è sicuramente, diciamo così, non consente svolgere un lavoro di comunicazione con attenzione, con probabilmente non agevola il suo ruolo, non agevola anche quello che secondo me serve, cioè fornirla una comunicazione adeguata più dettagliata rispetto alle cose che si sentono dire, se ne sentono dire di tutte. Quindi l'incubazione del virus, che cosa succede, la sopravvivenza del virus, anche siti scientifici di un certo livello si contraddicono. Aggiungo anche un altro fatto che sicuramente è l'ennesima butade di questi giorni, ma che è particolarmente indicativo, stando a quello che dicono i cinesi, voi sapete che ci sono comunità di cinesi in Italia molto ma molto ben integrate, che hanno un modo di comunicazione anche per quanto riguarda i social network e per quanto riguarda i mezzi di comunicazione molto particolare, loro utilizzano anche programmi diversi dai nostri e il loro grado di preoccupazione proprio perché hanno i parenti nella madrepatria è altissimo, le posso assicurare. Quindi la complessità della questione sta proprio nel fatto che noi abbiamo a che fare con un continente come quello cinese che è sotto un regime dittatoriale che non consente facilmente la comunicazione dei dati, non consente il veicolo delle informazioni, per cui capisco la complessità ma l'attenzione deve restare molto molto alta perché stando per esempio a quello che traspare e ripeto ci sono dei bollettini locali che fanno, anche perché da quello che so in Cina è bloccata internet in questo momento, ci sono intere zone completamente isolate e la comunicazione delle comunità locali fa arrivare dei messaggi di grandissima preoccupazione. grandissima preoccupazione. Grazie. Io do la parola ancora al senatore Zuliani per conto del senatore Iwobi che ha mal di denti, ha un problema, non riesce a parlare. Senatore Zuliani, prego. Ecco, grazie, si riporta fedelmente il testo. Per cercare di contenere nuove infezioni da coronavirus le autorità italiane hanno sospeso i collegamenti con la Repubblica Popolare Cinese. Su disposizione del Ministro della Salute, l'Enac ha provveduto a sospendere tutti i collegamenti aerei tra Italia e la Cina fino al prossimo 28 aprile. Azione crepto, importante e doverosa. L'Enac ha esteso arbitrariamente tale divieto, oltre a Hong Kong e a Macao, anche la Repubblica di Cina-Taiwan. Non avendo il Ministro della Salute fatto comunicazione in merito nella consapevolezza che Taiwan è un'entità territoriale con propria personalità giuridica internazionale, diversa dalla Repubblica Popolare Cinese, come specificato in una nota dell'ottobre 2009 dal capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico. Taiwan non è una provincia cinese, ma è un paese con una propria sovranità, è un proprio governo democraticamente eletto. Questa azione, signor Ministro, rende l'Italia l'unico paese a compiere tale azione nel confronto di Taiwan. Ci domandiamo quale sia la motivazione che ha spinto la sospensione dei voli fra Italia e Taiwan. Grazie. Grazie al Senatore Zuliani che ha letto l'intervento del Senatore Ivoobi. Ci sono altri interventi? Colleghi no? Diamo la parola al Ministro. Grazie. Bene, grazie a voi per gli interventi e anche le richieste di chiarimento che mi consentono di offrire alla Commissione ulteriori elementi di merito. Provo ad essere telegrafico, ma molto netto e chiaro sulle questioni che sono state poste. Primo, il principio essenziale che ci ha guidato in queste settimane, come ho provato a dire con grande fermezza, è il principio della massima precauzione e lo abbiamo adottato sin dall'inizio, provo a sottolinearlo ancora una volta, anche quando il 22 e il 23 di gennaio l'OMS decise di non deliberare lo stato d'emergenza, cosa che poi ha deciso di fare sette giorni dopo, sostanzialmente il 30 di gennaio, noi comunque siamo stati tra i primi Paesi del mondo a mettere in atto tutta la serie di provvedimenti che vi ho esplicitato in maniera puntuale e di cui c'è traccia con le circolari che vi ho indicato. Nel momento in cui il 30 di gennaio l'OMS ha fatto questa scelta formalmente, era inserata intorno alle 19.30, noi abbiamo scelto immediatamente di adeguare il nostro ordinamento alla nuova fase, alla nuova delibera che era stata assunta dall'OMS, siamo stati tra i primi Paesi a dichiarare lo stato d'emergenza, gli Stati Uniti lo hanno fatto poche ore dopo di noi, era la mattina dopo in Italia, la Gran Bretagna mi risulta che nella mattinata di ieri ha dichiarato lo stato d'emergenza, quindi si può discutere di tante cose, ma il tempismo, la tempestività e il principio di massima prudenza, di massima precauzione credo che ci abbia guidato. Secondo punto fondamentale, aver costituito un tavolo tecnico scientifico permanentemente riunito ci mette nelle condizioni di poter avere specifiche professionalità e competenze che possono leggere l'evolversi quotidiano di questa vicenda. Le misure adottate finora hanno sempre avuto in questo comitato tecnico scientifico il punto fondamentale di tenuta e io penso che dobbiamo fidarci dei nostri scienziati, penso che l'Italia possa rivendicare di avere tra i migliori scienziati del mondo, voglio sottolinearlo, è stato già fatto pubblicamente, non è un caso che i nostri ricercatori, in modo particolare si tratta di tre ricercatrici dello Spallanzani, siano riusciti ad isolare il virus, la sequenza genomica del coronavirus in sole 48 ore, perché se ricorderete l'arrivo di questi pazienti cinesi, se non ricordo male, è di venerdì sera e la domenica mattina è stato completato il percorso che ha portato all'isolamento della sequenza genomica del coronavirus, quindi anche in questo caso non solo il risultato ma anche la velocità con cui questo risultato è stato conseguito. Quindi abbiamo tra i migliori scienziati del mondo, è chiaro che questi sono quelli che devono mettere, come stanno facendo, io voglio esprimere gratitudine nei loro confronti, le loro intelligenze, le loro competenze e anche il loro sistema di relazioni internazionali, che non è cosa banale, al servizio del Paese e delle scelte che dobbiamo assumere. Con grande nettezza, le scelte fatte finora che ci collocano tra i primi Paesi, insomma, come livello di sicurezza e come approccio prudenziale sono tutte passate da un vaglio di questa natura, al momento è quel tavolo che non riscontra necessità di misure di natura aggiuntiva. Quindi tutte le altre cose che sono state riportate io penso che devono essere analizzate da quel tavolo ed è quel tavolo che valuterà. Evidentemente siamo dentro un'evoluzione di questa vicenda e l'auspicio di noi tutti e che da qui a poco i dati possano avere una tendenza più confortante. Le misure messe in campo nelle ultime settimane dal governo cinese, noi dobbiamo riconoscerle come misure molto determinate. Io spero, questo è l'auspicio della comunità internazionale, che queste misure ci portino in un tempo che ci auguriamo sia il più breve tempo possibile, a una riduzione di questo avanzamento e dell'allargamento dell'area del contagio. Il tavolo tecnico scientifico che è riunito permanentemente e che ogni mattina analizza i report ufficiali che ci vengono inviati dalle organizzazioni competenti di natura internazionale. Ogni mattina vengono analizzati i rapporti formali dell'OMS e vengono costantemente studiati e c'è un confronto scientifico su di essi i rapporti che arrivano dalle CDC che è la struttura europea competente in materia ed è chiaro che sulla base di queste analisi e dell'evoluzione dei dati ci potrà essere nelle prossime settimane un graduale adeguamento. Questo adeguamento noi ci auguriamo che sia dal lato di un abbassamento perché significherebbe che le condizioni globali stanno migliorando. È chiaro che sarà questo organismo di natura e di connotazione scientifica a guidare le scelte che il governo, sempre nel rispetto del principio di massima prudenza, dovrà compiere. Quindi anche sulla vicenda di Schengen io confermo che la valutazione scientifica che ci viene riportata è che al momento non ci sono le condizioni per immaginare una sospensione di quegli accordi. Voglio inoltre rispondere rispetto ad alcuni altri punti. La collaborazione interistituzionale è stata fondamentale. Il rapporto con le regioni è decisivo proprio perché è decisivo il funzionamento pieno del Servizio Sanitario Nazionale. Come è noto il nostro Servizio Sanitario Nazionale riconosce una funzione essenziale alle regioni, così come è fondamentale la relazione con tutte le istituzioni internazionali. La relazione tra stati diversi dentro la gestione di questa vicenda è veramente determinante. Non si può immaginare che un solo Paese o le misure di un solo Paese siano sufficienti perché le interconnessioni globali sono ormai molto significative. ed è chiaro che a livello europeo noi lavoreremo per provare a costruire il massimo del coordinamento e io questo coordinamento internazionale lo vedo su almeno due questioni fondamentali. La prima è quella dei controlli, della sorveglianza, delle misure. Ho dato alcuni numeri, insomma sono molti Paesi che hanno adottato misure di restrizione. L'altro lato che è altrettanto decisivo ha a che fare esattamente con la ricerca scientifica. La prima cosa che è stata decisa una volta isolato il virus in Italia è stata la messa a disposizione della nostra banca dati rispetto alla comunità scientifica internazionale. In questo momento è evidente che i migliori scienziati del mondo sono a lavoro su una sfida che è naturalmente di portata globale e io penso che l'Italia dentro questa sfida debba starci fino in fondo. L'Unione Europea, il coordinamento dei Paesi del G7, il coordinamento con la stessa Cina sono fondamentali anche da questo punto di vista. Il risultato che tutti noi auspichiamo, cioè di velocizzare il più possibile la definizione di un vaccino e quindi di una risposta organica e strutturale al problema di cui stiamo discutendo può arrivare dentro un coordinamento internazionale. Su questo stanno lavorando chiaramente l'OMS, le CDC e noi siamo pienamente dentro questa rete. Tra l'altro proprio oggi c'era una riunione a Ginevra e una rappresentanza del mondo della scienza italiana era lì esattamente per provare a stare dentro questa discussione. Ancora sulla questione Africa, anche qui noi assumiamo tutte le informazioni dai rapporti ufficiali. Il rapporto ufficiale dell'OMS in questo momento certifica che non c'è nessun caso in Africa in questo momento controllato, verificato dalle autorità. È evidente che questo è ad oggi nei dati ufficiali dell'OMS. È chiaro che dobbiamo monitorare con la massima attenzione e per la collocazione geografica dell'Italia è una materia che seguiremo con tutta l'attenzione possibile. La domanda che veniva fatta prima sulla possibilità che temperature più elevate possano avere un'influenza sulla capacità espansiva di questo virus sono argomentazioni che vengono riportate pubblicamente. C'è un dibattito su questo. Ho visto anche una dichiarazione autorevole del Presidente degli Stati Uniti d'America su questa materia nella giornata di ieri. Io ho chiesto al nostro tavolo tecnico scientifico di fare un approfondimento. Fino a quando non ci sarà una risposta anche un po' più puntuale su questa materia, io penso che dobbiamo limitarci a evitare valutazioni che in questo momento non sarebbero evidentemente mature. Altro punto che ritengo interessante, se fatto cenno a questo problema della comunicazione, io penso che sia un grande tema e penso che sia uno dei punti veramente nuovi di questa epidemia. Ci sono state altre epidemie di natura globale, ma in tempi in cui la comunicazione era diversa. Forse questa è la prima grande epidemia globale al tempo dei social, al tempo dei network aperti ed è questo che ha portato il governo italiano anche a fare alcune cose. Io rivendico, l'ho detto nella relazione, come un fatto molto positivo che due social network molto importanti come Twitter e Facebook abbiano fatto un accordo formale col governo italiano e quando si fa una ricerca su Twitter e su Facebook con la parola coronavirus c'è un suggerimento di andare al sito del Ministero della Salute perché è nel sito del Ministero della Salute che ci sono le risposte più adeguate. Io è un lavoro che ho fatto in prima persona, che credo sia utile e che va esattamente in quella direzione. Penso che la corretta informazione sia un pezzo della prevenzione e che sia fondamentale insistere su questo terreno qui. Abbiamo a che fare con una novità, insomma, la presenza molto significativa, pervasiva di questi social network rischia di veicolare messaggi sbagliati. Lo facciamo chiaramente con questa modalità moderna di un accordo con due social network, stiamo provando a farlo anche con altri. Lo facciamo col numero verde, che è un numero più classico, ma vi segnalo che i numeri dei contatti di questo numero verde, 15.00, che ho attivato 24 ore su 24, anche lì con personale medico che risponde, sono contatti molto significativi. Ci sono tantissime domande di tutti i tipi che arrivano dal nostro Paese, così come il sito del Ministero è in qualche modo il luogo più idoneo. Rispetto all'ultima domanda, io posso limitarmi semplicemente a dire qual è la comunicazione che io ho fatto, avendo firmato di mia penna la comunicazione era relativa ai voli con la Cina, quindi io penso che questa sia l'unica risposta che posso dare. In conclusione, permettetemi di dire che ritengo fermamente che nella gestione di una vicenda che ha un connotato di questa natura, quindi legato all'interesse del Paese, alla salute, alla difesa del diritto alla salute, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, ritengo molto importante il rapporto tra Governo e Parlamento, e quindi sono contento di essere potuto venire qui e confrontarmi con voi e permettetemi di dire che ritengo anche molto importante che ci sia un primato anche di interesse nazionale capace di superare i limiti e i confini del nostro dibattito politico che è spesso naturalmente vincolato alle questioni di maggioranza e di opposizione. Per quanto mi riguarda, in questa vicenda da Ministro della Salute farò tutto il possibile perché non esista maggioranza e opposizione, ma il sistema Paese sia unito per difendere al meglio la salute dei nostri concittadini. Grazie. Grazie. Grazie Ministro. Io avevo l'ultima domanda sulle stazioni. Non c'era quattro, però ho risposto. No, sulle stazioni ferroviarie. Io ho risposto chiaramente. Ho detto che al momento le misure adottate sono sufficienti, non ci sono altre. A questa è la risposta. Queste sono le misure. Ok, grazie. Chiudiamo l'audizione. Grazie Ministro. Grazie a voi tutti.